Grazie, grazie veramente per avere lanciato questa iniziativa che porta i nostri ragazzi fuori dalle mura della scuola, addirittura li porta dall'altra parte del mondo. Grazie tantissimo all'Associazione Radio Amatori Italiani e grazie all'Aisam e grazie ai loro presidenti, perché permettono alle nostre scuole di dare il senso esatto di che cosa vuol dire 4.0. 4.0 è la capacità di utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione per potersi mettere in relazione e qui la possibilità che i nostri ragazzi da scuole diverse dal nostro paese possano parlare con la base antartica e con gli scienziati presenti in questa base antartica. Credo che sia un grandissimo elemento di spinta a quell'elemento fondamentale della vita che è la curiosità, la capacità cioè di esprimere la voglia del sapere, la capacità di costruire sulla voglia del sapere delle conoscenze e costruire dall'altra parte delle competenze che permettono poi di raggiungere tutte le parti del mondo. C'è un straordinario bisogno oggi di riconquistare il mondo, il mondo che sembrava semplicemente dato e che stiamo scoprendo in questi giorni che in realtà è così diviso. C'è anche quindi questa componente, la componente di permettere ai nostri ragazzi non soltanto di scoprire il mondo, ma di scoprire anche le difficoltà, ma anche la bellezza di fare insieme questa battaglia comune per la tutela del mondo. E' questa idea che dobbiamo rigenerare tutto l'ambiente partendo dalla conoscenza di tutto l'ambiente e quindi la capacità di parlare con coloro che là, in prima linea, stanno lavorando per tutti noi. Grazie